E non puoi pogliertelo così a sta merda Ciao belli Sono un piacere Banconote quelle che ti fanno fare Dalla 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 molly molly Cosa sto facendo? Oh mio dio raga Qua se qua si fanno veramente cazzi Pasci tua tua madre morta T'ho aperto che scommessi comunque eh Sparate un numero di commenti Fino all'episodio in cui durerà questa serie Chi indovina vincerà un cazzo Nel culo Olee biaci Uno due tre Ok Uno e due Perfetto Fantastico Tra l'altro con loro Cioè che cazzo ci si può fare A parte le armature inutili Niente credo Allora oh redstone Quello è un bug sicuro Allora vediamo Che livello è? 12 Ecco già qua no? Prima di fare cazzate incredibili Già qua secondo me Se uno scava Qualcosa trova Olee Vabbè Allora a parte questo Allora prendiamo I lapislassuli Mi devo far secchi Che poi sono inutili i lapislassuli Non so a che servono Saranno cose decorative De merda Non so A resto Un 10 euro Che sotto ci sta la lava No Pazzesco Incredibile Olee Ok raga Dato che qua siamo Ad un livello abbastanza basso Cioè il L'undici Cioè tecnicamente Se io mi faccio tipo Una cosa del genere Per scavare Io gli trovo un diamante Ho rischiato di finire la serie In questo esatto momento Che figata La cosa più bella della storia Allora vedi Che pare il son Raga Cioè mi scrivete qualcosa Da fare con la redstone Figo Cioè veramente Veramente Tamarra Qualcosa Ok raga Allora io Magari posso Prova a fare Sti tunnel Così Per vedere se Trovo qualcosa Ma Io la vedo Molto molto dura Ogni due Ogni uno Erano Ogni due Raga qui Qui non c'è assolutamente Niente Quindi io direi di Tornare a casa Svuotiamo tutto E sistemiamo E poi andiamo a cercarci Qualcos'altro Qualche altra caverna Che qua Vedo molto dura Far qualcosa Da dove siamo entrati Ok da lì Ora il problema Sarà veramente Tornare A casa Possiamo fare O alla proprio Buonissima Oddio stava cadendo Di sotto O ci scaviamo in testa O cerchiamo di tornare A dove Da dove siamo partiti Ma la vedo Molto Molto Ma molto dura Esatto Ci siamo già Fottutamente Persi Ottimo Così Ottimo Fantastico Tutto bellissimo Tutto molto bello Scusa eh Ok allora Non ridurrò mai più la strada Questo è un dato di fatto È un fatto di dato Quindi mi sa che se De Moscava in testa Raga Merda Porco Da dove sono entrati Cioè Scusa eh Ma non c'è un buco Cioè da dove sono entrato Help I need some body Porco Che botta Ok No vabbè Usiamo il granito Che è inutile Ok Signori Signori Ok Abbiamo avuto un canyon Credo eh Questo è un bel canyon Vieni qua creeper Vai Vai La lava Coglione Imbecille Brucia Vai su Ok Uno è morto Quell'altro pure Merde Vovunato E qua Non serve Ok Allora Vi ho trovato questa bella merda Adesso Perché volevamo tornare a casa Vole Peralmeno ci abbiamo una Una strada per la superficie Che qui è chiuso Quindi Pur inutile scavare Perché è inutile Tentiamo di risalire da qui E vediamo Dove ci porta Un po' eh Dai esattamente nessuna parte Guardate il numero Che numero Che numero ho fatto Cioè Con il numero 10 Francesco Totti Qui eh Ok livello 44 Vogliamo Addentriamoci Un attimo Dentro Siamo in due spunto Completamente a caso A me stiamo abbastanza in alto Per rischiarci La deve scavarci in testa Ok raga Ci siamo Merda è notte Merda è notte Merda è nottissima Non è notte È nottissima raga È nottissima Che sfiga Che sfiga Però la casa Non dovrebbe stare troppo lontano C'è un esempio Una zona abbastanza Simile 59 72 307 Un attimo Ok noi dobbiamo arrivare A 101 67 110 101 Ok Tacci vostra raga Villaggio Nenderman Merda Questo sinceramente Non so se era Un coso già visitato Ma secondo me sì Secondo me C'ho sta Stava che Ma che cazzo Oh Oh merda No 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 Merda Ehm Oh cribbio Via signori Via via Quanta roba Ma è un mini creeper Cos'era No fuck Corri corri Please 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 Vabbè raga Ma dov'è Non è mai così No qual'era il 101 67 110 Era Era il coso Merda Comunque sta qua vicino Raga Non è vero Raga io sono fottutamente perso Quindi per favore Se vi ricordate le coordinate del coso Per favore me lo dite Ricordate che in descrizione c'è G2A per giochi E abbonamenti scontatissimi E abbonamenti scontatissimi E abbonamenti scontatissimi